Salve a tutti ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo video, oggi siamo sempre con figo giocatore Ciao Aspetta, waypoint, questo qua lo cancello Ok, vulcano, qua ci mette il waypoint del vulcano che si mette con la C e waypoint, tu lo vedi? Ehm, no Allora, lo mettono pure tu con la C, scrivi vulcano e mettono Sì, però zio, almeno me lo fa E allora non lo so quale può essere, guarda lì un po' tutti Metti M, provati M M Aspetta, aspetta, lo so io, metti Z Z, vinta Te lo da, un menu? No Aspetta che con thing, menu key Boh, preme, tasti a caso Mi sto premendo Te devi da una cosa che ti dice Ti lo so Ti lo so Reis minima Ok Ditpoint no minima po' Trovato Aspetta, che c'è? Che c'è? Forse l'ho trovato Che ti dice? Aspetta prima Dove vedere bene il tasto Perchè ho preso a caso Perchè ho preso il nuovo FG Con la virgola Ecco Con la virgola Vai su No, su Kconfig No, no, già trovi il waypoint name Con la virgola mi mette già il waypoint Vabbè, metti, metti con la virgola Con la virgola Con la virgola Metti che hai i config Messo Aspetta Ehm Che c'è? No, mi ho messo i due points No, dico con la virgola Metti Che hai i config Metti virgola e scrivi che hai i config Ti sa che hai i config sotto Ok, ragazzi Rieccoci Oddio, scusate Rieccoci La gran posi Lo so Perchè ho anche l'FTB aperta Qui si vuole un villaggio Le secondi video Dove l'FTB E ritorniamo Insieme Ok, ragazzi Rieccoci Oddio Rieccoci Andiamo A cercarci un posto per la casa Pecola Che ne dici? Aspetta Pura giù Qua dentro ci nascondiamo Poi dopo facciamo Ci facciamo tutta la cosa Dopo lo vedi E ora facciamocelo in buchetto Poi dopo vedi quello che voglio fare Pronto, ti è perso Hai lag Tu dove sei? Sto dentro la caverna Non c'è la caverna Hai visto? No, raga Eh, girate Perchè stai andando la? Fermo, girate Sì, ciao La tua sinistra La tua sinistra La tua sinistra La tua sinistra Ma che sinistra? Perché sinistra di gira a destra? Eh, quella Eh, quella Sì La ti ho visto Ok C'è tu così La tua sinistra di gira a destra Metti la craft in table qua Eh, quella Sì La tua sinistra di gira a destra La tua sinistra di gira a destra Si fa la carbone della foglia Tanto Mi sento casa Me la sento come casa Me la sento come casa Secondaria Casa Casa Metti 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 Caverna In casa caverna La metto di bianco Ok Metti Ok torce dove? 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 sta salendo si vabbè ciao lascia aperte tanto è troppo difficile per te avvolto e lo troppo nuovo andiamo ma insieme aspetta 6 acqua scu 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 no xd 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 percorrere ma sono rientrati nel mio attimo i miei genitori ok e sulla casa scuola scuola si è un po' passare scherzo perché si scava perché si è un po' poco largo ecco ah non servevi il basalto basalto aspetta metto italiano ah già italiano ok vado a prenderlo vado a prenderlo vado a prenderlo basalto vado a vucano quanto ne vuoi tanto che dobbiamo fare basalto ah beh aspetta 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 ok 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 rilassanti cavalli cittadini barca quanti cavalli ma 2 mi ha scaricato le sp 1.6.2 però non ho sentito proprio città 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 Quindi ragazzi che dire, che poi continueremo sempre di più, non la faremo troppo lunga perché diventerebbe loiosa, la facciamo, la facciamo con te di 10, 15, 15, 15 di luna. Tu sto figo giocatore? Sto scavando, dove hai messo i tuoi waypoints più in verso la tua destra. Non te sento tanto però. Dove hai messo i tuoi waypoints, alla tua destra sto scavando. Sì, sì, sì. Ti vedo. Già ce l'ho una slot da 64 e una da 20. Tu dopo dammeli che li vado a portare a casa. Allora, scelgo ora, dove sei? Ti so, ti so. Tiè. Vai, continuiamo.